Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a migliori robot aspirapolvere. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base, al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Iniziando la nostra lista con il numero 5, abbiamo Roborock S5 Max. La capacità del serbatoio dell'acqua è fino a 290 millilitri, l'area di oltre 200 metri quadrati è completamente coperta. Roborock S5 Max utilizza il sensore laser ad alta precisione LDS che scansiona la stanza a 300 giri al minuto per garantire una pulizia efficiente di ogni angolo della casa. alta efficienza, capacità del serbatoio dell'acqua fino a 290 millilitri, area di oltre 200 metri quadrati di copertura totale. S5 Max è anche dotato di una nuova funzione, Carpet Boost. Quando l'aspirapolvere rileva un tappeto, aumenta automaticamente la potenza di aspirazione del 20% per migliorare le prestazioni di pulizia sui tappeti. Roborock S5 Max è in grado di pulire fino a 150 minuti con una sola carica, il che lo rende ideale per case di grandi dimensioni o stanze multiple. È inoltre dotato di un serbatoio dell'acqua integrato che può contenere fino a 290 millilitri. Numero 4. Neato Robotics V7. L'aspirapolvere robot intelligente Neato Robotics V7 è perfetto per chi desidera una pulizia profonda, senza dover fare nulla. Con la sua app disponibile per smartphone Android o iOS, è possibile avviare, arrestare, trovare, programmare e ricevere notifiche dal robot aspirapolvere. La tecnologia Corner Clever con la sua forma di raggiunge tutti gli angoli della casa, mentre la Smart Laser Navigation con extra car e mappa con grande precisione pavimenti, pareti e mobili. La tecnologia di aspirazione Spinflo con spazzole a spirale adatta a tutte le superfici e il potente filtro Ultra Performance aspira anche i rifiuti più difficili da pulire. Il Neato Robotics V7 è perfetto per chi desidera la pulizia profonda di un aspirapolvere robot senza dover alzare un dito. La sua app, disponibile per smartphone Android o iOS, consente di appare. Terzo posto c'è Cecotec Robot Aspirapolvere. Il Robot Aspirapolvere Cecotec Konga 6090 Ultra è l'aspirapolvere più avanzato con un sistema di pulizia che combina le migliori innovazioni in materia di aspirazione. Pulisce la casa da cima a fondo e da un angolo all'altro. Se si desidera pulire un'area specifica, utilizzare il programma Area Riservata, che consente di delimitare un'area sulla mappa della casa quindi l'aspirapolvere non pulisce quell'area. Il Robot Aspirapolvere Cecotec Konga 6090 Ultra è anche il più potente, con una potenza di aspirazione di 2200 PA che farà sparire anche lo sporco più ostinato. Ma non solo, è anche dotato di una spazzola supplementare per pulire in profondità tappeti e moquette. Inoltre, la sua pattumiera quarantesima consente di raccogliere più sporco prima di rinforzare il robot di rinforzare il robot di rinforzare. Numero 2, i Robot Roomba. Roomba 981 è un'aspirapolvere robot autocaricante che utilizza una potente aspirazione e spazzole per rimuovere sporco, polvere e peli di animali domestici da tappeti e pavimenti duri. Grazie alla tecnologia di navigazione VSLAM, i Robot Roomba pulisce sotto i mobili e intorno al disordine utilizzando pareti virtuali per creare aree di pulizia personalizzate. L'aspirapolvere Robot Wi-Fi i Robot Roomba 981 è dotato di un filtro EPA che cattura particelle. Fini come polline e forfora di animali domestici per aiutare chi soffre di allergie e asma. Roomba 981 è inoltre dotato di una potente batteria agli ioni di litio che garantisce fino a 120 minuti di pulizia con una sola carica. Quando la batteria si sta esaurendo, Roomba torna alla sua base per ricaricarsi. Il Roomba 981 è coperto da una garanzia di un anno da parte di iRobot. Infine, il numero 1 della nostra lista, i Robot Roomba i7156. È l'ultimo ritrovato della tecnologia dei robot aspirapolvere. Ha un design elegante, facile da usare e di semplice manutenzione. Grazie alla sua tecnologia di navigazione, è in grado di trovare lo sporco dove si vuole quando serve e, cosa altrettanto importante, di evitare di andare dove non si vuole. L i7 utilizza anche una mappatura avanzata e una navigazione intelligente che consente di impostare le preferenze di pulizia con un semplice comando vocale o tramite l'appi Robot Home sullo smartphone. Questo aspirapolvere robot è dotato di doppio spazzole multisuperficie che aiutano ad allentare, sollevare e rimuovere sporco, polvere e capelli da tappeti e pavimenti duri. L i7 è dotato anche di una spazzola per la pulizia dei bordi che pulisce lungo le pareti e negli angoli. Oltre alle sue potenti capacità di pulizia, L i7 è anche silenzioso. Sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.